A prescindere da quante persone andranno a votare, il Partito Democratico è l'unico partito che usa questo strumento per eleggere i propri organismi nazionali, quindi in questo caso il Secretario Nazionale, che è anche l'indicato per il Premier, e l'Assemblea Nazionale, i membri dell'Assemblea Nazionale. Quindi qualunque numero di persone parteciperà all'elezione sarà comunque un successo. Il PD a retino scalda i motori per l'appuntamento atteso delle primarie in calendario per domenica 30 aprile. 4.251 gli iscritti al PD chiamati al voto, ma in questo caso potranno votare anche i non iscritti. Tre le mozioni tra cui scegliere Andrea Orlando, Michele Emiliano e Matteo Renzi. 106 i punti elettorali in tutta la provincia, di cui 16 nel solo capoluogo. Nello studio del Partito Democratico è previsto appunto che il Secretario Nazionale del nostro partito sia anche il candidato a Premier, quindi da questo punto di vista qui mi attengo alle regole e personalmente comunque condivido che la figura di Secretario coincida con quella di Premier. Si vota dalle 8 alle 20 e per poter effettuare la votazione sono necessarie tessera elettorale e documento d'identità. Grazie a tutti.